Mister, domani arriva il primo impegno ufficiale che è anche un po' il bilancio di questa prima parte della preparazione. Certo, può essere un bilancio e deve essere l'inizio di un percorso dove ci auguriamo che parta nel migliore dei modi, nonostante conosciamo la difficoltà della trasferta e dell'impegno e si va a considerare anche i 90 minuti, poi eventuale extra time, quindi trovare risultato in un'unica partita in un campo difficile contro un avversario da rispettare in tutto e per tutto. Qual è lo stato di salute della Rosa? Ci sono un paio di giocatori non disponibili? Direi buona, buona se non ottima. È chiaro che le assenze per squalifica di Gigli e Lazzarini andranno un po' a condizionare e si aggiunge una contusione al ginocchio di Damiani da valutare nel pomeriggio e quindi potrebbero essere tre anziché due assenti. Vediamo oggi pomeriggio come risponderà. La Vispesaro, che squadra è e che squadra si aspetta nell'impegno domani di Coppa? Una squadra, quelle di Stellone, che ho incontrato anche in passato e ho analizzato, che non cambiano molto le attitudini e l'espressione di gioco. Quindi ci aspettiamo una partita molto aggressiva, una partita in fase di non possesso molto aggressiva da parte dell'avversario, una partita molto verticale in fase di possesso, però al di là di quella che può essere un coefficiente di difficoltà abbastanza alto, considerando anche il periodo dell'avversario piuttosto che di un campo sintetico, perché va contestualizzato anche quello, mi piacerebbe vedere una squadra che lavora soprattutto su se stessa e cercherà in tutti i modi di far prevalere quello che è stato il lavoro fatto in queste quattro settimane.